A San Giovanni Appiro il gruppo di minoranza ha le idee chiare su come condurre la prossima campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale. Ha già il logo che dovrà campeggiare sulla lista che sarà denominata in comune e probabilmente sa già anche chi dovrà correre per la carica di sindaco. Ma su questo punto nessuno si sbilancia. In pole position ci sarebbe il consigliere d'opposizione Ferdinando Palazzo. Il dato certo è che i due gruppi di minoranza si sono uniti ed insieme vogliono tentare di battere l'amministrazione uscente che con molta probabilità affiderà la corsa per la carica di sindaco ad Alberto Astone non potendo il primo cittadino, Maria Stella Gianni, ricandidarsi per chi ha il secondo mandato. In comune ha inaugurato la sede del comitato elettorale. Nel corso della cerimonia i cittadini sono stati invitati a frequentarla per definire insieme il programma e la lista. Pasquale Sorrentino ha ricordato il perché di in comune. In comune vuol dire insieme, in comunione e in comune dentro le istituzioni perché solo dentro il comune si può cambiare quello che noi vogliamo fare. Gli ha fatto eco l'avvocato Franco Maldonato. Una esperienza che si è già connotata per il suo carattere di novità, di cambiamento, di rinnovamento, di cui tutti quanti abbiamo bisogno. Maldonato con questo intervento ha di fatto ufficializzato la sua discesa in campo per il comune di San Giovanni Appiro. Molti credono che sarà lui a correre per la carica di sindaco, ma nessuno lo conferma.